4 ottobre, festa del dono e della donazione in ogni sua forma, promossa dall'Istituto Italiano della Donazione. L'Italia è il primo paese al mondo ad aver istituito per legge la giornata dedicata a un gesto che racchiude i valori dell'altruismo, dell'etica, della solidarietà. Oggi a Montemurlo la prima di una serie di iniziative volute dal Comune per rimarcare l'importanza della donazione del sangue. Alla sala Banti un incontro aperto ai ragazzi delle scuole per spiegare attraverso le voci e le testimonianze del primario di immuno-ematologia dell'ospedale Santo Stefano, dei vertici regionali e locali dell'Avis e di qualche donatore, che donare significa contribuire a migliorare la salute della società. È molta la richiesta del sangue, ma sia della donazione di plasma che di sangue intero. La necessità è costante in ambiente ospedaliero e quindi è molto importante la risposta della cittadinanza. Donare sangue è donare vita. La sensibilizzazione di tutta la cittadinanza e l'unione delle istituzioni credo che sia un segnale molto importante. Il Comune di Montemurlo ha messo in piedi una serie di iniziative, tra le quali spicca la mostra fotografica Luce di David Ulivagnoli, una carrellata di immagini che hanno per unica protagonista la natura e che ben si sposa con i principi di generosità e di condivisione che rappresenta la donazione del sangue. È questo un momento anche difficile, è un momento complicato, dove magari molto spesso ci sono anche fenomeni di individualismo, quindi è fondamentale sensibilizzare la comunità e le persone nel concedere e mettere a disposizione, dove è possibile, parte di noi stessi per la comunità. Donare sangue significa veramente salvare la vita delle persone, quindi è un gesto straordinario, chi può lo deve fare.